Col precedente dell'Albi Corea, precedente, questi tre punti salvezza quanto valgono? Valgono abbastanza, peccato che abbiamo fatto la vittoria in casa contro di voi, contro Gasparino, che è una bella squadra, anzi siete stati veramente ospitati e quindi fate un bel gioco, diciamo che questa vittoria ci consola e ci fa andare avanti perché eravamo arrivati un pochettino al di sotto delle nostre aspettative. Diciamo che il Gasparino nel secondo tempo se pareggiava non rubava niente? No, non rubava niente perché è stato un bel secondo tempo da parte del Gasparino, da parte nostra un po' meno.